Ciao sono Luca di Mr. Gadget, ogni tanto vi presento anche qualche prodotto un pochettino alternativo rispetto insomma a quelli che troviamo in tutti i negozi qui si parla di un acquisto online tra l'altro ad un prezzo molto conveniente ma quello che è particolare di questo telefono è che se non state attenti e lo picchiate in testa a qualcuno c'è il rischio che gli facciate veramente male pensate 11.000 mAh di batteria, un display 18 noni da 6 pollici per un prodotto veramente curioso ed originale si chiama Okitel K10 Allora come anticipato ecco un prodotto che vi auguro di non ricevere mai sulla punta dei piedi perché con i suoi 283 grammi insomma potrebbe essere impegnativo sopportarne insomma l'impatto un prodotto il K10 che è l'erede naturale del Lukitel K10000 il richiamo è quello alla dimensione della batteria pensate addirittura 11.000 mAh di batteria allora una struttura molto interessante con una parte addirittura in magnesio vedete questa parte costruita in magnesio solidificata anche dall'uso di queste viti e poi c'è la parte invece con il display vero e proprio un display con 6 pollici di diagonale un display full HD plus perché ha anche una razio 18 noni sulla parte posteriore il sensore delle impronte digitali discretamente veloce sulla parte posteriore devo farvi notare anche le finiture di questo prodotto perché questa è vera pelle questa è un'altra particolarità c'è una doppia fotocamera nella parte posteriore e una doppia fotocamera anche nella parte anteriore 21 megapixel più 8 megapixel nella parte posteriore e invece 13 megapixel più 8 megapixel nella parte anteriore c'è il flash nella parte frontale e c'è un flash anche nella parte posteriore per quanto riguarda proprio la struttura del telefono su questo lato c'è solo il cassettino potete mettere due nano sim o una nano sim con micro sd sulla parte superiore non c'è assolutamente nulla su questo lato invece il pulsante di accensione e poi il cosiddetto volume rock zitto lì assistente stai zitto sulla parte inferiore c'è l'attacco USB Type-C e poi l'altoparlante quindi l'effetto è quello anche di un vetro 2,5D che tutto sommato conferiscono nonostante le dimensioni generose nonostante il display gigantesco nonostante lo spessore anche enorme dato dalla gigantesca batteria che c'è all'interno comunque un aspetto più gradevole rispetto a quello del vecchio K10000 dentro questo telefono c'è un processore che è un Mediatek è il P23 e quindi la famiglia Helio P23 vuol dire che sono un octa-core quindi essenzialmente si affiancano 4 corda 2 giga con 4 invece che vanno ad 1,6 giga la struttura è quella Cortex A53 quindi diciamo un processore di discreto valore il display che come detto è da 6 pollici ha una luminosità comunque notevole guardate luminosità piuttosto alta e sono con il display ridotto al minimo adesso vedete sotto la luce diretta del sole guardate anche l'angolo di visione di questo IPS che è la tecnologia di questo display quindi un angolo di visione davvero notevole e una legibilità anche adesso vedete siamo sotto la piena luce dei riflettori e il display si legge molto bene un dettaglio che non mi piace tantissimo è il fatto che a bordo ci sia ancora Android 7.1.1 però ci sono delle buone personalizzazioni andiamo a vedere il menu di passo in passo partendo da questo del display potete scegliere ad esempio l'organizzazione della navigation bar quindi spostare questi pulsanti che ci sono sotto a seconda del vostro piacimento potete scegliere la dimensione del carattere e scegliere anche tra l'altro quando no aspettate che ho sbagliato voglio tornare con la mia navigation bar alla condizione normale potete scegliere anche quando si mette in funzione il LED non solo perché ci sono altre possibilità di personalizzazione che vengono in particolare dalla possibilità di selezionare qui quali applicazioni volete con lo schermo intero questa opzione vi viene offerta anche quando voi aprite l'applicazione poi ci sono le cosiddette gestures motion cioè voi girate il telefono per silenziarlo alzate il telefono lo portate vicino all'orecchio e rispondete quando siete in viva voce e mettete il telefono vicino all'orecchio si spegne a viva voce e la comunicazione diventa normale gestures con tre dita sul display e poi il double tuck per bloccarlo quindi davvero tantissime gestures che sono a disposizione e poi anche le gestures unlock cioè a telefono spento voi potete fare uno swipe in alto per sbloccare il telefono uno swipe verso il basso per attivare la fotocamera e poi non solo potete anche mettere un M sul display spento per avviare la riproduzione musicale una C sul display spento per avviare ecco scusate non avevo avviato proprio il sistema globale una C sul display spento quindi con una C sul display spento voi andate ad accendere il telefono in questo caso avendo io messo il blocco con il pin prima che arrivi al telefono bisogna inserire quello che è lo sblocco effettivo ah ecco la navigation bar si può anche nascondere quindi potete avere 6 pollici effettivi di disponibilità di spazio all'interno del telefono e poi c'è una one handed mode con uno swipe vedete se io attivo in questo modo con uno swipe verso il lato destro potete rimpicciolire il vostro display tutto questo perché quando si tratta soprattutto di utilizzare il telefono con una mano sola insomma con una dimensione di questo genere non è mai facile potete essenzialmente registrare un video di quello che fate con il telefono se attivate questo fast capture con un doppio movimento del pulsante del volume e credo che la cosa più complicata vedete c'è anche uno scanner per codice QR o codice a barre una delle cose complicate sarà ricordarsi essenzialmente tutti questi dettagli allora navigazione internet ovviamente senza alcun tipo di problema io vorrei farvi sentire anche la qualità dell'audio prima di passare a vedere invece come funziona la fotocamera una fotocamera che vedremo insomma un menu che tutto sommato abbiamo già visto in precedenza nella vita ascoltando il volume della fotocamera ne approfitto per salutare gli amici di Satispay andiamo però io volevo continuare a rimanere qua ecco cerco di far partire essenzialmente lo streaming di Radio Number One che come sapete è la casa di Mr. Gadget siamo già al massimo del movimento multimediale la musica viene emessa tutta in questo singolo altoparlante da questa parte c'è il microfono quindi essenzialmente musica che pur con questa dimensione importante del telefono non è proprio il massimo abbiamo detto doppia fotocamera frontale doppia fotocamera posteriore questo si traduce nel fatto ad esempio di poter utilizzare la modalità blur quindi il fatto che lo sfondo venga sfocato quando il telefono viene utilizzato in modalità ritratto faccio notare che la modalità blur c'è anche quando si usa un solo sensore potete utilizzare anche la modalità monocromatica avete una modalità panoramica e anche una modalità pro dovendo vedere un po' il comportamento della fotocamera in questo caso nella sua funzionalità normale vedete messa a fuoco fissato la messa a fuoco con questo rumoretto discreto e poi questo è dunque lo scatto non è velocissimo la messa a fuoco mentre scatto e memorizzazione lo sono abbastanza insomma un prodotto che tra l'altro c'è la radio FM all'interno tra le tante caratteristiche che vi segnalo di questo smartphone ci sono 64 giga di memoria con 6 giga di RAM abbiamo già detto degli 11.000 mAh di potenza della batteria che tra l'altro permettono di trasformare questo telefono anche in una vera e propria power bank questo credo che sia elemento importante per quanto riguarda la doppia SIM è un telefono dual standby e quindi insomma queste le caratteristiche fondamentali di Ukitel K10 vi faccio notare una cosa questo oggetto con tutte queste cose costa 269 euro vedete voi, ciao!